un paio tra di loro non tra di loro no vabbè scherzo ma io mi faccio i cazzini però vuole sapere se hanno ne vuole parlare non mi sento di parlare nemmeno io perché c'è la nostra decisione ma tu ne parleresti vivi? si per vedere una bovecchia quindi non ho problemi ok vivi allora dacci la tua versione vivi oh sta un po' laggando vivi mi sentite? si ti sentiamo un po' a scatti ma ti sentiamo ok no in poche parole due anni fa era successo un po' un casino tra me e un'altra persona di cui non faccio il nome ma hanno già fatto il nome nella live o a caso? cosa? l'avete già detto per sbaglio una volta il nome nella live o no? no 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 lasciamo lascia Valerione uomo o donna? uomo ok lasciamo 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 però c'entra un'altra donna ok Valerione lascia parlare il content è stata questa che avevo fatto delle storie in instagram per spiegare questa situazione perché non la trovo corretta né nei confronti né nei confronti di altre ragazze è quella stessa cosa e quindi questa altra ragazza amica Diana e ha fatto delle storie contro in cui diceva tipo mi insultava e mi diceva tipo che non posso permettere di parlare così del suo amico quando lei effettivamente non si fa come erano altre cose e Anna ha fatto le storie contro di me tu hai messo una foto con lui dopo che hai detto che ti violentava Vivi cioè capito tu dici che uno ci violentava allora non ho mai detto che questa persona diventava una e due non l'ho detto in live allora allora se io no mi stai cazzando scusami ma se non dico una cazzo di cosa nella live ma se non dico una cazzo di cosa nella live ti stai zitta perché saranno cazzi miei ok oh ma la Vivi non hai nessun diritto di dire cazzi miei ciao ebo ciao ebo ciao ebo due due tu hai fatto eh no ma vedi senza sapere come erano altre cose appunto eh ma con questo con questo hai dimostrato che è stata una cazzata appunto cioè no 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 perché se non ho detto quella cosa ci sarà un motivo punto uno punto due se ci ho messo la foto insieme se ci ho messo la foto insieme mi fai parlare se ci ho messo la foto insieme è perché sono successi degli eventi ok con quella persona che mi ha fatto determinate cose ok a livello mentale io ho messo quella foto io ho messo quella foto e il giorno dopo il giorno dopo troppo quella persona si è comportata in un certo modo con me perché le avevo ripulito l'immagine e ha ricominciato a comportarsi in un modo di merda ok quindi non c'entra niente il fatto che vi ho messo una foto c'entra quello che hai fatto tu punto non stiamo parlando di quella persona moderiamo un po' vabbè vabbè insomma io non ce l'ho detto che non bisognava parlarne cioè tra ho pisciato fuori dal vaso vabbè ma che cazzo cioè nel senso ho pisciato fuori dal vaso sì quindi vabbè almeno tra cioè io te lo dico questo sì per te cazzi ma è una diretta però vai tra cioè veramente ma stuoi cioè ma dici cazzate dici stronzate dici che abbiamo discusso per cazzi tuoi che io secondo te vuoi aspettare una persona così a caso così a caso perché c'ho voglia ma scusa un saluto a web ma una persona si tratta in un modo tu ci mattina a stare insieme ok bene l'ho preso Anna brava no 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 il cielo sorride ok giustamente vado a inventarvi cose per quale motivo vivi tutto a posto vivi no 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 aspetta vabbè io sto zitta va bene dai abbiamo capito quello che dobbiamo capire basta il mondo è bello perché il mondo è pieno di noccioline grazie Anna ancora ma che cazzo vuoi cioè vivi no tutto a posto eh quello che ti devo dire ho dato che dici cazzate la prossima volta non dire cazzate almeno finiamo qui ok scusa cioè tu hai trattato come amico una persona che ti ha fatto certe cose e se permetti cioè non ha senso